Dopo mesi di lotte e iniziative politiche, finalmente l'assessore ha deciso di convocare il tavolo tecnico, la prima riunione è stata convocata la settimana scorsa, fra gli altri erano presenti l'ex Presidente dell'Assemblea regionale Francesco Cascio, l'Avvocato Marco Traina, Giuseppe Brancatelli dell'Associazione Bissiter che si occupa da anni di queste problematiche. La cosa che purtroppo va segnalata, l'assenza mi è stato comunicato dall'Avvocato Traina e dell'assessore Razza. La riunione si riconvocherà a gennaio e sembra che vi siano state stabilite una riunione al mese. La mia valutazione politica è che c'è un iter molto lento per il quale io faccio un appello all'assessore perché dal corpo dei malati al cuore della politica questo iter si è accelerato perché vi sono molti che aspettano di curarsi con la cannabis terapeutica e noi sappiamo che la cannabis viene prodotta soltanto in un laboratorio a Firenze, quella diciamo legale, e purtroppo c'è molta gente che ricorre al mercato clandestino, quello che noi vogliamo assolutissimamente evitare. In questi mesi di battaglia sono tante le persone che si sono unite a questa lotta? Sì, abbiamo lanciato un appello, primo firmatario appunto Francesco Cascio, ma un appello trasversale, l'iniziativa anche di Fabrizio Perrandelli, di Maria Saeli, di Rossana Tessitore, di intellettuali, Letizia Battaglia, insomma oltre 100 personalità hanno detto vogliamo che questo tavolo tecnico ci sia e vogliamo che appunto l'iter è necessario e urgente che l'iter sia appunto celere. I radicali da anni fanno tante battaglie, adesso c'è un pericolo per l'informazione? Eh sì, c'è l'attentato alla vita di Radio Radicale. Radio Radicale è organo della lista Marco Pannella. Radio Radicale è una radio nella quale parlano tutti, da Rifondazione Comunista a Fratelli d'Italia, vi sono i convegni giuridici, le dirette dalla Camera e dal Senato, i processi che vengono trasmessi in diretto e indifferita. Sì, è un appello affinché Radio Radicale viva così come tutte le voci libere. Un attentato alla democrazia è l'attentato al conoscere per deliberare, al diritto alla conoscenza. Quindi qualsiasi voce libera va salvata.